Brutto incidente nel pomeriggio di martedì 2 novembre intorno alle 14.30 in via Busano a Favria all'incrocio con strada Ceretti. A scontrarsi una Peugeot 5008 condotta da un uomo di Favria e una Ford Focus con a bordo una donna di Busano. Sul posto sono intervenuti la crociola 6 Castellamonte, i carabinieri di Aglie, il sindaco Vittorio Bellone e il consigliere Gianni Agus. Il leso è il conducente della Peugeot mentre la donna, estratta dalle lamiere dell'auto, è stata trasportata all'ospedale di Cirie in codice giallo. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. La strada è stata chiusa al traffico per permettere l'operazione di soccorso e rimozione dei mezzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.